Quando arriverà il vaccino anti-covid? Che impatto avrà sulla popolazione, sulle fasce più deboli e soprattutto come la pensano i cittadini? Si sentono sicuri di vaccinarsi contro il nuovo coronavirus oppure hanno delle riserve? Noi lo abbiamo chiesto ai quartini e tra dubbi e certezze ecco cosa ci hanno risposto. Ci sono un po' di contrasti però ci si documenta e si guarda, bisogna documentarsi ecco, vedere le cose positive e negative come tutte le cose. Però ecco diciamo che ha fiducia e se lo farebbe? Sì, io direi di sì, certo sempre consultando il medico. Io mi sentirei sicuro di fare questo vaccino anche perché penso che sia una cosa che sia molto utile in questo momento. Sarebbe l'unica cosa che ci potrebbe risollevare, ecco, tutto qui. Sì, sì perché io mi vaccino per ogni cosa, mi sento più sicura, più curata. Il mio medico io gli ho fiducia, se me lo consiglia lo faccio volentieri. Ma al di là del fatto che credo che quando sarà in commercio dovrebbe essere comunque già tutto sperimentato, quindi io sì, lo farei perché sono sempre stato diciamo di questa idea anche quando era il momento di vaccinare i piccoli. Quindi ecco per me il discorso vaccini è più che positivo insomma comunque. Poi è chiaro, come tutte le cose ci saranno sempre casi in cui magari c'è qualcosa che non va, ma purtroppo quello rientra un po' nelle statistiche. Capisco che a chi tocca non faccia piacere, però credo che insomma il ruolo del vaccino sia positivo insomma nell'insieme, più che positivo, secondo me è da fare. Se verrà il vaccino lei insomma lo farà con tranquillità? Tranquillità, diciamo che si spera un po' negli altri che abbia fatto qualcosa di buono. Quando è sicuro sì, ma se non c'è qualcosa la rutengan loro. Non lo so, quando sarà il momento e ci penserò. Ci sto pensando. Mi sentite sicuri? Mica tanto, mica tanto ci sto pensando, non sono tanto convinta ancora di farmela. Io aspetto che prima se lo fanno i politici, poi dopo vedrò.